Tutto è pronto, è iniziato, calcio di punizione in favore della Juventus, sono delicatissimi questi minuti iniziali, gioco di Cabrini, sono passati 5 minuti, ecco il servizio per Bredi, indietro a Furino, Bredi, Furino e fa lo laterale quando raccoglie la Cabrini, Bredi, Brio, Bonini, Marocchino cross di Marocchino, colpo di testa di Fercauteren, Cabrini, Bredi, è il settimo minuto del primo tempo, ci sono stati episodi determinanti, si può dire che la Juventus ha battuto la per la Juventus, c'è Bredi sulla sinistra, su Bredi commette ancora fallo, Hawkins, l'arbitro vi ripeto è inglese, fischia il calcio di punizione che si prepara a battere Cabrini, Bredi, ed è gol, ha segnato Brio, ma l'arbitro regolarissima la posizione di Brio, vediamo, guardate da dove arriva Brio, dietro a tutti, quindi era regolarissimo il gol, gol di Brio, annullato, annullato il gol per un fuorigioco di Brio, inesistente, ed ecco lanciato adesso Marocchino, che resiste ad una prima care, Cabrini, Bredi, fermato Fercauteren, Bredi, Bonini, Cabrini gioca su Cluitent, che è estremamente arretrato, infatti 20 minuti, Bredi, ancora Bredi, sul cross, il colpo di, va a terra, Bredi, è in fuorigioco Virdis, fate la barriera con Tardelli, Bredi, Bredi, è andato in suo aiuto Tardelli, rilancio di Scirea, Bredi, che viene messo a terra da Brille, calcio di punizione, già battuto dalla Juventus, su Bredi, 1-0 e siamo al 31esimo minuto del primo tempo, Bredi, battuta la punizione, Bredi su Bredi, sulla sinistra libero Cabrini, ecco la palla per Cabrini, pericolosissimo cross, cross è a cercare la sua testa, era stato effettuato da De Gros, disimpegno ordinato di Cabrini, lancio su Bonini, che è anticipato dal recupero di De Gris, fallo laterale di Bonini, Bredi, Cabrini, andando vicino due volte, ostacolavano a vicenda, il lancio di Cabrini su Bredi, che fa a partire Tardelli, tiro di Tardelli, Parota, Marocchino, pareggio, pareggio di Marocchino. È stato spinto da Fer Cauteren, c'è un calcio di punizione già battuto a favore della Juventus, Fer Cauteren riconquista la palla, ancora Bredi, che tira a Pini, Bredi, scatto di Bredi, non riesce il suo cross per l'Ipino, Bredi, hanno paura a scattare i giocatori, colpo di testa di Scirea, Bredi, imposta un contropiede, lo affianca Marocchino, il passaggio è a Virdis, verso Marocchino, fugge la palla a Cabrini, ha tirato Cluitens, Cabrini sul rilancio di Bredi, Marocchino, ma risteso con Cabrini, Cluitens, risolve. Nel primo tempo dobbiamo ricordare due spallone in area, il colpo di testa di Scirea, lo stop di Bredi, Bredis, Bredi, il contropiede della Juventus è con Lozano, ancora una volta in avanti. Olsen, Cluitens, Fredi, Riavviagliore della partita. Bredi Belgi perdono la palla prova il contropiede Virdis affidando a Bredi lancio verso Marocchino è lunghissimo il pallone a terra per Gautren rimane a terra ma a Genna rialzarsi, niente di grave Bredi Spirdis 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 arriva sul pallone ribassuto, corto e Scirea prima ferma poi disinpegna su Zopp sta facendo scaltare un altro giocatore dovrebbe essere De Zutter Bredi fiora la palla Goerz ancora una volta è stata di Scirea Virdis Bredi Goerz Marocchino preso da Olsen Cabrini ferma Cluitens quando i due sono a contatto Cabrini ha sempre la minuto Bredi cross di Bredi non riesce a raccogliere la palla Virdi persa la palla da liberato Brio Bredi Frandelli Goerz libera Scirea riprende De Croce Bredi l'apertura su Marocchino rincorso da Pro al ritorno la Juventus poteva abbassare l'1-0 3-1 l'apertura su Marocchino